Sapresti dire perché hai scelto il liceo o l'università che oggi stai frequentando? Magari lo hai fatto per accontentare i tuoi genitori o più semplicemente per seguire i tuoi amici in un percorso di studi comune. Eppure oggi ti ritrovi all'interno di una selva oscura con tutta una serie di difficili e complicate materie da studiare e non sai neanche tu perché le studi. E intanto l'ansia in casa cresce. Ciao, sono Matteo, anche noto come Superman. La mia missione è quella di aiutare gli studenti liceali ed universitari proprio come te a risolvere i loro problemi in matematica e fisica. Sì, anche quelli più difficili. Insieme ce la possiamo fare. Oggi voglio parlarti di quelle difficoltà che si incontrano comunemente all'interno dei tuoi percorsi di studi come al liceo e all'università e quindi dei motivi che mi hanno portato ad aprire questo canale YouTube per aiutare proprio le persone come te. Essenzialmente ci sono tre grandi motivi dietro la filosofia di questo canale che voglio mettere a disposizione degli studenti come te con tutta una serie di lezioni di matematica, fisica ma allo stesso tempo con tutta una serie di consigli per aiutarti nelle tue decisioni, nel migliorare e nella tua crescita personale per studiare sempre meglio e allo stesso tempo per capire quale sia la migliore strada per te nel tuo futuro. Il primo grande motivo che mi ha spinto ad aprire questo canale è il fatto che noi non siamo i voti che prendiamo quotidianamente a scuola o all'università. Siamo molto di più, siamo un insieme di potenzialità, alcune delle quali le conosciamo bene, altre magari un po' meno e le dobbiamo scoprire e quindi magari abbiamo bisogno di una guida per cercare di comprendere quale siano le nostre potenzialità, dove bisogna migliorare e come si può migliorare. Certo, magari non ti sto dicendo di fare ripetizioni in continuazione, anche perché sennò diventa una stupida banalità e un altro impegno da portare avanti all'infinito, ma ti sto dicendo che qui su questo canale potrai trovare tutta una serie di lezioni quando più ne hai voglia e quando più ti servono. Il secondo grande motivo che mi ha spinto ad aprire questo canale è il fatto che bisogna allenarsi quotidianamente all'interno di queste materie e quindi su questo canale avrai a disposizione tutte le lezioni che preferisci e poi potrai contattarmi qui nei commenti sul video oppure direttamente attraverso i miei canali social per farmi domande, toglierti curiosità e risolvere alcuni dei tuoi problemi sia in matematica che in fisica. Quindi massima flessibilità e massima disponibilità dal tuo supereroe preferito. Il terzo grande motivo che mi ha spinto ad aprire questo canale YouTube è il fatto che noi tutti siamo diversi. Abbiamo bisogno di un metodo di studio personalizzato e proprio di questo ho parlato in uno dei miei ultimi video che ti linko qui sopra nella scheda e se vuoi potrai dare un'occhiata. Il fatto è che anch'io ho studiato molto, ho da qualche tempo terminato il mio percorso di studi all'università in ingegneria informatica ma continuo a leggere, studiare e formarmi in continuazione e proprio per questo motivo so che studiare non è semplice ma ognuno di noi ha bisogno delle giuste motivazioni del giusto metodo di studi e per questo sono anche flessibile nell'aiutarti a venirti incontro e cercare di capire quale sia la migliore posizione possibile. Magari anche con delle lezioni private e online qualora ce ne fosse bisogno. Ecco vedi, ora la palla passa di nuovo a te. Sta a te scegliere se vuoi migliorare, crescere e imparare un nuovo metodo di studio per affrontare queste discipline che ti mettono continuamente in difficoltà nel tuo percorso di studi. Non c'è bisogno di mollare e di cambiare. Magari devi provare solamente qualcosa di nuovo e forse questo canale fa proprio il caso tuo. Ecco allora che ti chiedo di iscriverti a questo canale YouTube e di far suonare la campanellina per non perderti le prossime avventure di Superman e tutte le lezioni che potranno tornarti utili in qualunque momento. Grazie. Conto security. Comment? Vagano Stato. I ti senti certo. No.